Testa grande Oh! E non possiamo neanche commentarlo troppo Perché fra 3, 2, 1 Gigante Che succede? Oh mio! Avrete capito Nella ruota della fortuna di oggi Si deciderà il nostro destino Ecco, sono diventato un nano dal giardino E dovremo riuscire a completare quest'hobby Quindi... Oh mio! C'è una bomba! C'è una bomba! No! No, le mani! Mi servono le mani per fare l'intro! Ciao amici senpai! Senza mani! Dovremmo riuscire a completare quest'hobby Oh no! Perché così zoomato in fuori? Non capisco niente! Quanto è lunga? Oh mio Dio è lunghissima! Ogni 5 secondi succede un qualcosa di molto brutto Meno male che una cosa bella c'è I checkpoint Almeno quello Saltare sulle palle Oddio perché sono diventato verde? Mi sento male! Oh no! Come morte! No 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 no! Sono ricevuta a checkpoint! No no Quanto è grosso questo! Aia la bomba! Questo è forse uno dei giochi più divertenti a cui abbiamo Mai giocato fino ad ora No no a morte Ancora no! Sono quasi arrivato al checkpoint! Saprete che oggi mi arrabbierò tantissimo Io non sono un tipo che si arrabbia molto facilmente Oh oh! Sono gigante! Oh! Posso saltare da una palla alla No no no! No no no! Dai! 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 No non gigante! Non gigante adesso! Non gigante adesso! No! Ti prego non la morte! Fammi prendere almeno il checkpoint! Almeno il checkpoint! Mezz'ora sono qui! Sììì! Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? Non so... Sono gigante! Come faccia a vedere qualcosa? Io vi zoom a voi perché è impossibile vedere... Sto facendo la spaccata! Perché sono diventato blu, viola? Ho tutte le parti del corpo colorate... Il arcobaleno! Cosa vuol dire canguro? Cosa vuol dire canguro? Perché... Cosa vuol dire canguro? Uh! Faccio i mega salti! Uh! Sicuramente... No! Come lumaca! No! Come lumaca! No! Sono lentissimo! Dai questo dovrebbe essere facile! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! No! Il nano! Ah! Nano! No 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 no! Il nano no! Il nano no! No! Si tolgono! Si tolgono gli scalini! Sono caduto perché... Ah no! Da piccolino così lo scalino era gigante! Era una montagna da scalare! Adesso ce la facciamo eh! Ce la facciamo? Ce la facciamo? Niente? Ok! Senza mani non mi importa! No! Le mie mani sono cadute nell'oblio! Nel nulla cosmico! Manca un secondo! Cacca! Ok! Ho lasciato la cacca! Caderà in testa qualcun altro! Tu cosa stai facendo? Stavo andando al contrario! Mi ha tolto tutti gli scalini! Guarda mamma! Senza mani! Senza mani! Sono andate senza mani! Però mi servono le gambe! Come ceci tà! Perché tu vai al contrario! Non vedo niente! Non vedo niente! Ok! Cambio! Cambio! No! Devo rifare tutto! Quanto ci sono i rompiscatole? Quanto manca? Ancora una rampa di scale! Mancano 5! 4! 3! 2! 1! Non la morte ti prego! Il gigante! Il gigante! Il gigante! Il gigante! Oh! L'occhio gigante! Oh finalmente abbiamo preso il checkpoint! Aia! Perché? Mi ha testo l'ora gigante! Di cavolo! Non dobbiamo toccare questo rosso! Sarà molto facile! Ma non ci vedo niente! Ok! Ce lo possiamo fare! Pianino! Noi siamo abituati! A rotolare sulle palle! No! Cosa vuol dire lumaca? No! Sono la lumaca! Aia! Scusa io ho i capelli più alti! Come faccio a passare di lì? Ma come faccio a passare? C'ho i capelli alti! Ma com'è possibile? Ah! Forse dobbiamo aspettare di prendere il nano! Questo! Ci serve il nano! Eccolo! Che però dato che eravamo giganti non siamo tanto nanici come prima! Woo! Ci abbiamo fatta! Poverino lui è un gigante senza gambe! Mi fai passare per favore che non so se ho preso il checkpoint! No! Le mie mani! Le mie mani! Aaaaa! Pianino qua eh! Questo è abbastanza semplice! A meno che non ci mettono... Cos'è? Flash? Oh! Sono velocissimo! Sono velocissimo! Sono flash! Prima a destra! Poi a sinistra... No! Era a destra! È un po' come il ponte di Squid Game! Quindi a destra a destra! Sinistra a sinistra! Destra a destra a destra! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Oh no! Quanto era veloce! Cos'è Freeze? Mi congelo? Mi sono congelato! Mi sono congelato mentre sto per morire! Non posso morire! Ma che cos'è? Pianino pianino andiamo su questi pois! Su questi cerchettini! Ce l'abbiamo fatta! E ora? Cos'è questa cosa? Dovrebbe essere difficile! Ho lasciato una bomba! Boom! Mi dispiace per tutti quelli che c'erano dietro! Ma noi dobbiamo andare avanti! Nano! No no no! Nano è il nano! No! Ok ce le facciamo! Ok! Siamo nani ma saltiamo come dei gri... Tanto cosa? Mi servono le mani! Forse a voi vi servono le mani per lasciare un mi piace! Facciamo che nel prossimo video facciamo un altro video come questo! Se vi sta piacendo io che mi arrabbio! Non so perché magari mi volete ma... Mi ha trasformato in gigante proprio in quel momento lì! No senza gambi! L'odio senza gambe! Ma come... Ma com'è possibile? No lumaca no! No! No la lumaca no! Oh abbiamo preso flash o siamo velocissimi? Dai veloce veloce veloce! Finisci sta cosa! Il canguro! Il canguro mo' mi fa saltare tantissimo! Boing! 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 Dai ancora uno! Ancora uno! Ho la cecità! Non so dove sono ma dovrei essere proprio con i miepidini sul checkpoint! No! Un pochino più avanti! Ora dobbiamo stare attenti a questi cosini neri giusto? Ma noi... Sembra... Mi hai fatto cacare! Sono diventato riuscito dalla rabbia! Dai! Sì! 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 Ce l'ho fatto brutti cubettini schifosi! Questo sarà più difficile! Meno male che la nostra testa si è ingrandita così che abbiamo il cervello molto più sviluppato e riusciamo a salire... È solo una cosa molto lunga da fare e dobbiamo sperare che non ci capiti niente di troppo brutto! Ci potrebbero andare via le gambe, le braccia... Tipo adesso... No le mie braccia! Oppure potremmo prendere il kangaroo! O far la cacca! O diventare un clown! Ok le mani non ce le ho quindi... Non mi togli niente! Faccia di serpente! Brutto deficiente! Ma tra un secondo la ruota rigira ancora! Ok! Prima persona! Non troppo brutto! Ora possiamo... Ti prego prendere il checkpoint! Sì! L'abbiamo preso! Possiamo salire qui sopra! Ora! Quando è in prima persona... Non è che sono stupido io o sono cattivo che non mi voglio far vedere niente! No! Le gambe! Le gambe! Le gambe! Le gambe! Le gambe! È che... Ah! Ho fatto anche una puzzetta! Ma come faccio a camminare? Non ho braccio e non ho gambe! Ma che cacchio! Salta più un penino! Don don don! Don don don! Don don don! No! Il nano no! No! Il nano no! Prego! Oh! 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 No! In prima persona! No! Ma perché mi vuoi male? No! E che c'è così fotta? No! Oh! Stavo cadendo! Questa cosa è una bomba? Dobbiamo stare attenti alla bomba! Sì! Ce la facciamo! Questa era facilissima! Siamo diventati un piccolo clown di tutti i colori! E adesso... Oh! Bello questo! Interessante lo zoom out! Ah! Oh! Quanto manca? Pochissimo! Dai! Basta che non accade nulla di troppo brutto! Possiamo passare qua a lato senza farci niente! Ora qui in mezzo... Mi hai messo flash all'ultimo! E' andato velocissimo! Salti! Niente di brutto! Niente di brutto! Prima persona non è poi così male! Ci vogliamo giù! Ci vogliamo giù! Oh! Ah! Ma che me l'ho arrivato! Perché? Perché? Dai! Dai! Sì! Sì! Siamo arrivati! No! Mi hai bloccato a mezz'aria! Ok! Meno male! Testa grande! Va benissimo! Testa grande da clown! Oh! Checkpoint! Questo come fa a essere difficile? A me sembra anche abbastanza facile! Ah! No! Mi hai messo il nano schifoso! Che scivola! Ah! Oh! Ah! Ah! No! Ci fa diventare gigante? Con questo! Essendo così tanto vicini! Mi sa che con un pass... Possiamo semplicemente camminare! No! Il nano no! Il nano no! Il nano no! Oh! Sono diventato un nani! No! Un nanino! Ma abbiamo preso il checkpoint! Ora! Qual è quello giusto? Lo verde? No! Come faccio a sapere qual è quello giusto? Giallo! 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 Stai a vedere che adesso non è più giallo ma è verde eh! Guarda eh! No! Era sempre giallo! Come faccio a fare sto coso? Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, ma, ma Il verde non si può toccare Questo è impossibile Ahia Abbiamo capito Non abbiamo capito Ok si è tolta la cicita Dai, dai Siamo così arrivati Tanto adesso muoio in qualche modo eh Mi dai un qualcosa per morire Ok il clown non muore Il clown non muore Il clown sopravvive Il clown sopravvive Sì No, 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 no Perché mi ha bloccato a mezzate Allora sicuramente qui bisogna andare su questi verdi Grazie per il canguro Non ci serviva No, le gambe Le gambe mi servono Le gambe mi servono Ora dobbiamo rimbalzare ogni volta Tutto Oh, 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 oh Il clown che salta Non rendete conto che lo sto facendo tutto zoomato in fuori? Ma adesso cado per forza Oh, posso rizzoomare dentro Ok, vai Piano, piano Niente di brutto Canguro Cosa? Quei canca salto di canguro è così alto così? Non il freeze adesso Sì Sì, senza mani mamma Senza mani Oh Oh No, 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 no La cecità, no Non ci vedo niente Tutto nero Lo sfondo è tutto nero Non vedo niente Ok, ok, ok Non mi posso lamentare Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì No, la morte no Sì Ho preso il checkpoint All'ultimo Ho preso la morte Ho preso il checkpoint Giusto? L'ho preso, no? L'ho preso Sì Ho preso il checkpoint Ora questo dovrebbe essere super semplicissimo Opla, opla Opla, opla Boom Abbiamo fatto la cacchina di una bomba Ma a noi non ci importa Credo che qui nessuna pare Te va toccata E noi con il ditino Il ditino La pare Piano l'occhio, piano Hai tutto il tempo del mondo No, perché ogni 5 secondi Succede qualcosa di molto brutto Piano, 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 piano Sì, perché va avanti da solo Quando diventa piccolo E non ascolti i genitori I genitori gli dicono Non andare Non andare Non andare E lui va Lui, 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 lui va Deve attraversare la strada Guarda attento C'è una macchina Non andare E lui Non andare Vado Ma ho la testa grande Così non ci passo nemmeno Ecco Ecco il nano schifoso Che non si ferma mai Il nano non si ferma, eh Slitta Va Vedete? Ah Quasi toccato la parete Però il nano Non tocca le pareti Cioè va bene che siamo più piccoli E va bene che Oh, cosa è successo? No, mi sono frizzato No, toglimi da lì No, no La prima persona No, no No, no Fermati Ok Dai siamo arrivati all'ultimo 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 Ti prego non mi far diventare un gigante Non mi far diventare un gigante adesso Ti prego Oh, che cacchio è sto salto? Ci abbiamo fatta Siamo diventati una lumaca all'ultimo Meno male Oh, che super salti che faccio Posso già finirlo questo Guardate che salto Oh, oh Sono diventato un gigante col canguro Sì Sì, gigante col canguro Non mi far morire No, non il frizz Non il frizz Dai Dai Sì Sì Nuovo checkpoint Siamo giganti col canguro Siamo senza mani ma non ci importa Pianino Facciamo i salti pianino Ce la facciamo Pianino Pianino E abbiamo preso l'altro checkpoint Ora Cosa devo fare? Non devo andare sul blu? Infatti Non dovevo andare sul blu Dovevo andare sulle nuvole Va bene Se non sto Bene Bene Ci capisco tanto così Almeno possiamo vedere la fine Ora dovremo andare su quelli rossi Mi sa giusto Cosa? Non devo andare su quelli rossi? Ma che senso ha? Allora è facilissimo Se la mia connessione va via Non mi tiene conto dei checkpoint che ho fatto Quindi Spero tanto che la mia connessione non vada via Se no devo rifare tutto E non posso farlo Mi manca pochissimo Sono arrivato Mi mancano tre stage Ce la facciamo Speriamo che la connessione non crashi Ora Quale devo andare? Quello giallo? No Quello viola Come sempre ovviamente Quello viola Quello viola Quello viola 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 Odierò il viola dopo questo video Spero che lo odierete anche voi Mi sono cadute le mani Talmente odio il viola Ora devo andare sul giallo Ancora Ma perché mettono le cose facili? Però ogni volta mi fanno morire Quindi la prossima volta vado sulla cosa più facile Andiamo sul blu 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 Il blu non lo odio Questo è facile Blu 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 E blu Ok Adesso Spero che Oh mio dio Oh mio dio Sono un gigante Oh mio dio Sono un gigante No Non ci vede niente Però ce la sto facendo Non so come Ma ce la sto facendo Posso ritornare e zoomare dentro Ok Questi qui sono abbastanza facili Ma più arriviamo Verso la fine Più le cose sono facili Come mai? La testa gigante di un gigante È un gigante gigantissimo Oh nuovo checkpoint Oh sì Il nano Il nano Meno male ci ha dato il nano Abbiamo quasi finito Ci mancano solamente due Oh 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 In prima impressione difficile Se saliamo sta scala abbiamo finito Sì 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 Succederà qualcosa di brutto Sicuro Congratulazioni Hai vinto Davvero Abbiamo vinto veramente Abbiamo tutte queste cose Da Loki è tutto Abbiamo vinto Questa sfida E il gioco È qui sotto in descrizione Se volete provarlo anche voi Vi garantisco che Non è facile Da Loki Che è lontanissimo Mi allontano anch'io È tutto Ciao